Dopo tre anni via Lido-Sagamento è un disastro, lavori fatti male e incriminato il duo Bandiera Pantano. I lavori fatti in via Lido-Sagamento non sono a regola d'arte e continueranno ad avere un costo per i cittadini. Dopo l'assurda narrazione degli amministratori della nostra città dice Mangiafico come via Lido-Sagamento come non l'avete mai visto e noi la sottolineiamo perché non si era mai visto che una ditta appaltatrice dei lavori lasciasse asfalti sopra i pozzetti di ispezione dell'acquadotto e della fognatura dichiara Mangiafico, leader del Movimento Politico Civico 4 e componente di Fratelli d'Italia. Dal punto di vista del Movimento gli errori su via Lido-Sagamento sono molteplici. L'amministrazione secondo Mangiafico avrebbe dovuto scarificare il manto statale per circa 3 cm. C'è lo strato di usura, detto anche tappetino, poi avrebbe dovuto fare il rilievo della quota di tutti i pozzetti stradali, luce, acquadotto, fognatura, gas per metterli in quota di asfalto finito, ovvero si scardina la cornice del pozzetto, si mette a livello dell'asfalto finito e si cementa con una malta speciale che ha tempi di asciugatura ridotti anche di 48 ore. Per essere pronta a sopportare i carichi pesanti, a questo punto con la fognitrice si ripristano in maniera uniforme allo spessore dell'asfalto. Il piano di calpestia dell'asfalto deve corrispondere al piano di calpestia dei coperchi e dei pozzetti. Civico 4 spiega inoltre che l'amministrazione comunale ha segnalato una parte dei pozzetti lungo la strada con delle piccole buche create ad hoc, che chiaramente buche pantano bandiera dal nome degli assessori alla viabilità e ai lavori pubblici per indicare la presenza dei pozzetti, tuttavia dove non sono state create queste buche i pozzetti risultano completamente coperti dall'asfalto. In molti punti della strada i pozzetti, denuncia Mangiafico, sono totalmente coperti con lo spessore dell'asfalto che li ricopre variabili da 1 a 2 fino a 5-6 cm a seconda della conformazione della strada che in certi tratti presenta una corda molla. Questo problema si verifica perché l'amministrazione comunale non ha eseguito l'operazione di messa in quota dei pozzetti. Un giorno il pozzetto scomparso si dovrà rilevare con attrezzature idonee e con ulteriori costi. Chiaramente se uno o più pozzetti vengono interessati in urgenza da interventi sulla rete fognaria o idrica bisognerà con ulteriore costo togliere l'asfalto dalla superficie del pozzetto per liberarlo e poterlo sollevare, intervenire e rimettere il coperchio determinando un fosso in funzione dell'asfalto caricato sopra trasformando il tavolo da biliardo che dovrebbe essere un nuovo manto stradale in una porcheria in stile amministrazione comunale Italia Bandiera Pantano con i fossi che emergeranno in futuro dai pozzetti seppelliti e noi, conclude il leader del movimento, pagheremo queste bestialità.